e buongiorno a tutti da un po che non ci vediamo infatti ho detto adesso bisogna che pubblico qualche video perché da un po che non li faccio il video ecco e niente ragazze volevo parlare di delle pulizie oggi di come me li faccio ultimamente ad esempio questo video qua ho filmato praticamente in tre giorni primo giorno faccio le pulizie non lo so non faccio una volta già una volta settimana tipo le pulizie di tutto quanto ecco non so tipo primo giorno faccio delle lavatrici faccio cambio lenzuola come come vedete adesso è venuto anche freschino ho tirato fuori anche il file e cenato anche il file sopra mi dedico tipo un giorno faccio delle lavatrici lavo tutto se mai faccio se mai anche stiro una giornata di stiro una giornata faccio lavo i pavimenti pulisco la polvere un'altra giornata pulisco i vetri infatti oggi vi faccio vedere come faccio come mi organizzo ecco più che altro in prima giornata ad esempio ho cambiato lenzuola mi dedico a pulire un po la polvere e poi dopo la mia giornata finisce lì ecco ci ho dato anche giustamente anche in bagno ho pulito velocemente ma non faccio vedere in questo video qua ecco il bagno pulisco sempre ecco do una pulita veloce ma niente di che come vedete pulisco la polvere dappertutto e poi dopo passo dappertutto a spiralava i pavimenti ho visto questo questa organizzazione più che altro delle pulizie di casa perché uno che lavora giustamente non è che puoi dedicare tre ore parte le pulizie tutti i giorni ecco però a me piace di aver la casa pulita e per avere la casa pulita bisogna dedicarsi un pochettino ecco e allora adesso sto provando questo metodo qua c'è un giorno faccio una cosa un altro giorno faccio un'altra cosa e il terzo giorno non so faccio altra cosa ancora ecco e mi trovo bene devo dire la verità ecco questo già secondo giorno ad esempio secondo giorno mi sono dedicata e ho detto devo pulire tutti tutti i vetri non sono le pulizie straordinarie ecco sono le pulizie di tutti i giorni però siccome piove ultimamente sempre a smontare tutto quanto pulire tutto quanto non non avevo né tempo né né tanta voglia perché se faccio le pulizie come se deve ci metto c'hai una camera ci metto una giornata ecco invece così ho la casa pulita e però ci metto anche poco tempo ecco poi c'è stata un'altra giornata in questa settimana che mi sono dedicata anche alla cucina ho pulito tutta la cucina non ho pulito dentro i sportelli ma tutto fuori praticamente ho pulito tutto con l'ammonieca i vetri sto pulendo con questo detersivo qua che ho comprato non è niente male anche un profumo molto buono e poi sicuramente adesso quando mi organizzo un pochettino meglio voglio dedicare anche non so tipo un giorno mi ci vorrà due giornate sicuramente perché lavoro in due giorni pulire una camera ad esempio per pulire tutto bene modo perché fino adesso pulisco di qua di là però non sono le pulizie come si deve ecco a me piacerebbe pulire tutto bella modo e poi tra l'altro qua è venuto subito freddo adesso qua mi vedete in maglietta però ormai a casa sto con la felpa perché c'è freddo in casa c'è già freddo è venuto freddo tutto in un colpo adesso dovrò fare anche cambio di armadi tipo le scarpe ecco anche le scarpe ho cambiato questi giorni perché anche lì avevo tutte tutte le scarpe aperte e questo video e sarà molto molto corto perché faccio tali tantissimi e niente ragazze spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao tutte ciao ciao